Buongiorno ragazzi, io Sara Cugnal l'ho sempre difesa, perlomeno non l'ho mai attaccata e non ho mai consigliato di votare, io ho sempre sconsigliato di votare, però sentite cosa dice adesso in piazza Sara Cugnal, sentite bene le parole e poi ne parliamo. Il diritto di voto, e parliamo anche del diritto di voto, attenzione signori, io ho subito, e voi lo sapete bene, l'impossibilità di accedere al diritto di voto, quindi vi chiedo, imploro, se conoscete qualcuno che in questo momento ha anche solo il minimo dubbio di non andare a votare, vi prego, vi imploro, portatelo con voi, che voti qualsiasi cosa, ma ragazzi questa volta ci fanno votare, la prossima volta, e ve lo dico perché l'ho subito, probabilmente non ci faranno votare. Cioè, capito? Che voti qualsiasi cosa, l'importante è che voti, quindi lei sta dicendo, se uno vuole votare la Meloni, però è indeciso, portatelo a votare, che voti qualsiasi cosa, Cioè, lo capite? Anche Berlusconi, non è che dice che voti uno delle nostre parti, non so, Toscano, anziché Italexit o Vita, no, qualsiasi cosa, importante che voti, questo infatti è un po' lì che pensa. Ma vi rendete conto di dove siamo arrivati? Questi vogliono, fa parte, secondo me, dell'elite, perché uno che dice le stesse cose di Draghi, l'importante è che votate qualsiasi cosa, poi, qualsiasi cosa, ma ci rendiamo conto? Io personalmente sono deluso dalla Cugnale, poi fate voi.